Moltissime persone hanno partecipato all'inaugurazione della mostra di Alessandro Bergonzoni, Maceria prima, accuse mosse, presentata al pubblico sabato 17 dicembre 2011 a Parco, la galleria d'arte moderna e contemporanea di Pordenone. La mostra presenta una selezione di opere della produzione artistica di Alessandro Bergonzoni, avviata circa una decina d'anni fa ed offre l'occasione di conoscere un nuovo aspetto della fertilità intellettuale dell'artista, già noto al grande pubblico per il suo lavoro sulla parola e per la sua attività teatrale. Ci siamo mossi proprio sull'idea di lavorare anche su spazi chiusi, nel senso che abbiamo tre tecche di vetro che chiudono Frantum, per esempio, una divinità spaccata, cosparsa di piccoli mondi che sono delle biglie, dalle più grandi alle più invisibili, fino ad arrivare a trappi, strati e a fenditure di catrame con dei colori stradali, anche come idea di battito, battere la strada, batterla, compattarla, al tempo stesso disegnarci sopra sia con la ruota che col passo. La mostra, curata da Marco Minus, è promossa dal Comune di Pordenone con il sostegno della Fondazione Krupp e la collaborazione della Galleria Michela Rizzo di Venezia. La prima mostra che, diciamo, Bergonzoni realizza in una galleria d'arte moderna e contemporanea, altre ne ha fatte presso gallerie private e siamo ben felici di tenere questo battesimo, anche perché Bergonzoni è legato, diciamo, è stato più volte presente a Pordenone, legato da un affetto, da una simpatia nei confronti della nostra città e ci fa estremamente piacere che questa iniziativa trovi un filo, un collegamento con quello che è stata la grande esibizione di Bergonzoni al Teatro Verdi di Pordenone. La mostra rimarrà aperta fino al 26 febbraio. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.artemodernapordenone.it Grazie a tutti.